Alessio Natalini, capitano del Lanciano, in questo caso anche portavoce, non è stato un weekend facile, quello appena trascorso c'era una partita da giocare, giocare tra l'altro al meglio, vinta in trasferta su un campo ostico, una partita di Coppa, la squadra che ha risposto e ovviamente poi c'è stato l'innesto del nuovo allenatore, un allenatore importante, Lucarelli però partiamo prima dell'ultimo weekend. Come hai detto tu non è stato un weekend semplice, sapete tutto quello che è successo e per noi voglio dire siamo stati bravi a mantenere la concentrazione sul campo, sulla partita che non era semplice, abbiamo affrontato una squadra sgorbutica sul campo loro e devo ringraziare i ragazzi perché secondo me abbiamo fatto una grande dimostrazione di maturità, non era affatto facile. Per quanto riguarda invece l'arrivo di mister Lucarelli parliamo di un allenatore importante, un allenatore con un palmarès sicuramente ricco e adatto al momento e forse anche alla piazza perché possiamo dirlo è forse il top per l'eccellenza. Il mister non ha bisogno di presentazioni, già oggi è diretto il primo allenamento, noi come normale che sia abbiamo dato la nostra disponibilità a tutto perché dobbiamo perseguire l'obiettivo che ci siamo prefissati. Mi dispiace a tutti per come è nata a finire con il mister Delgrosso perché abbiamo passato dei momenti bellissimi, abbiamo vinto, quando vince tutto ampliato e tutto bello faccio ringraziamenti al mister a nome di tutta la squadra e faccio come ti ho detto dal nuovo mister avrà il nostro appoggio, ci mancherebbe il totale impegno, totale attaccamento alla maglia e totale disponibilità. Grazie.